Siamo a Piazza San Pietro, oggi una giornata importantissima per gli sportivi delle Acli. Incontreremo padre Francesco, a cui il presidente nazionale Damiano Lembo consegnerà il premio Enzo Bearzotto e il presidente delle Acli, Roberto Rossini, consegnerà un ricordo, una croce artistica. Sono sul Sacrato di Piazza San Pietro con il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, e Damiano Lembo, Presidente Nazionale dell'Unione Sportiva Acli. Una giornata bellissima per le Acli. È una giornata particolarmente importante, l'incontro col Santo Padre e l'incontro con un'autorità spirituale che per noi ha particolare importanza, l'ha sempre avuto nella nostra storia e particolarmente con questo papato ci sentiamo veramente molto vicini al tema della giustizia sociale che spesso Francesco ricorda. L'US Acli arriva con un progetto che è importante sotto questo profilo e credo che quindi questo potrebbe essere davvero un incontro proficuo, ascoltiamo volentieri le sue parole. Damiano, la settimana nostra è la settimana santa, inizia proprio con l'appuntamento con il Papa Francesco. Che stai provando in questo momento? Guarda, è un'emozione grandissima essere qui in questa piazza, vedere la nostra gente, i nostri cappellini, i nostri valori qui in piazza è come veramente tornare all'origine e ricordarci che ogni giorno noi ci alziamo per fare questo, per fare lo sport come una missione di pace e per fare lo sport secondo gli insegnamenti di questo papato soprattutto. e membri dell'Unione Esportiva Acre un saluto Ebbene Grazie a tutti C'è stato un saluto Rappuato Il Saluto Il Saluto Ebbene Grazie a tutti